Buongiorno, volevo rispondere a questo commento, c'è scritto sopra in alto nel video, Alessandro Leonardi, l'autore di questo libro, che dice che sono tutti d'accordo e che i bricks sono fatti da Goldman Sachs. Inoltre, te lo faccio vedere bene, il libro si chiama I nuovi eretici di Alessandro Leonardi. Non è il manuale del complottista, è un libro normale che lo trovate su internet, acquistato se fossero male l'avrebbero già ritirato, invece purtroppo è tutto vero. Inoltre, ho visto che nel tuo profilo hai condiviso i video di Roger Walker, quello lì dei Pink Floyd, come si chiama adesso non so, di quello che si suona la chitarra, ma ti faccio vedere chi è quello che suona la chitarra, così capisci che sono tutti d'accordo. Lo vedi? Lo vedi? Questo qui, in un suo concerto, si è vestito da nazista, ma questo potrebbe sembrare una stupidaggine. Ma quella che veramente mi ha emozionato? Con chi ha avuto una relazione? Con una famosa giornalista di quelli là, dei palestinesi? E questa sembrerebbe tutto molto bello, no? Dire, guarda che bello, aiuta una persona con cui ha avuto una relazione. Ma va. Ma se questa qua è stata la partner di uno di Goldman Sachs, ve lo dimostro, ve lo dimostro. Leggete, preso da Wikipedia, Roger Walker, Walters, di Pink Floyd, no? Questa signora ha avuto una relazione con Roger Walters e Pink Floyd, ma prima, prima, nel 2013, sposata con il banchiere americano Arthur Schultz Jr., figlio di un partner di Goldman Sachs. partner di Goldman Sachs, partner di Goldman Sachs, ragazzi, 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 ricordate quando vi dicevo che David Solomon, David Solomon, è il CEO di Goldman Sachs, ed è un bravissimo DJ che suonava al World Economic Forum le canzoni learn to love me, impara ad amarmi e cross your mind, incrocia la tua mente con te, ma io con te non incrocerò mai la mente con voi, cari Goldman Sachs, che avete comunque contribuito a fondare i BRICS, quindi ho ragione io, siete tutti d'accordo. E non me ne frega niente, perché io non ho più niente da perdere, ma l'ultima cosa che farò nella vita è sbugiardarvi tutti, che siete tutti d'accordo, da occidente e oriente, e siete tutti d'accordo a schiavizzarci, siete tutti d'accordo a tenerci in pugno con le vostre guerre, a dividerci, a farci litigare, a mettere personaggi in tv che sembrano buoni, che sembrano che dicono la verità, invece siete tutti pagati dai banchieri per farci fare le guerre infinite, in modo che voi vi arricchite e noi ci impoveriamo. Quindi avete capito, sono tutti d'accordo, i BRICS, Goldman Sachs, World Economic Forum e chi ne ha più ne metta, sono tutti, 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 d'accordo, datevi una svegliata, perché questo non è il manuale del complottista, questo è Wikipedia, questo è gossip, sono tra l'altro notizie di gossip, se la faccio chi? Guarda, che era sposata con quello di Goldman Sachs e che ha la cittadinanza israeliana ma è di origine palestinese. Oh, beh lì, a me non me ne frega niente chi si tromba chi, chi fa schi, non me ne frega proprio niente, ma io nel 2023 non mi faccio manipolare da voi, né dalla Russia, né dall'America, né dalla Palestina, perché io ho un cervello, io ho un cervello e ho messo insieme i pezzi e siete tutti d'accordo per toglierci tutto e voi prendervi tutto. E io a questo gioco sporco non ci sto, capito?